e bentornati oggi finalmente vorrei prendere quel cavolo di pfg perché non ne posso più allora in teoria dovrebbe essere via per di qua se non ho visto male nel tutorial che ho visto sì perché dovete sapere che anche io stranamente guardo il tutorial non è vero è solo che non ho mai visto un modo così stupido diciamo perché non mi vengono in mente altre parole per prendere un'arma del preordine è possibile che sia arrivato a 20 puntate 25 puntate 28 potete 30 puntate e non ho ancora trovato il mio preordine ok ma non potevate metterlo in un modo un po più semplice diciamo cioè non so del tipo mi dice potevano dirmi guarda il tuo coso è qua sei contento eccolo qua sì ma sta roba qua non era molto chiara ve lo assicuro eh ma guarda te eccolo qua che fastidio maledetto eh grazie ce ne ha voluto di tempo eh wow hanno fatto proprio un'animazione strafaica vediamo se si può potenziare sicuramente no vero eh beh immaginavo d'altronde allora pistola dei coloni pistola ok qua non c'è niente va bene posso ritenermi semi soddisfatto e sottolineo semi scemi soddisfatto vabbè allora dove possiamo andare adesso punto di domanda ecco ranger lesule sistema nord il segnale tutta la superficie cross nel mirino ancora ah torna da kvaser ok eh 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 sì vicini vabbè dai andiamo qua lagunei no qual'era la città dove c'erano i potenziamenti che voglio potenziare un attimo wild spring credo eh osi lagunei i don't remember eeeh cosa cos'è gun barrel no non è gun barrel wild spring si dai a wild spring ci dovrebbe essere il robot dottore chiamava robot dottore vabbè comunque avete capito cosa intendo dai andiamo a fare un po' di potenziamenti che tecnicamente ho processori architect ghiandole mutanti ghiandole vitali ho di tutto per cui qualcosina dovremmo riuscire a combinare è probabile che potenzerò di nuovo il danno eh o almeno credo insomma un data pad nelle vicinanze eccolo qua ok allora troviamo wild spring eh eh voglio dire troviamo il robot dottore che non è qua detto porco assolutamente si allora vediamo un attimo aumenta danni delle armi eh sopra il carico del 5% 5% di più di danni cavolo tutto buono sta roba qua in realtà perfetto questo mi interessava san frusaglie per ora no vediamo un attimo il nostro danno dovrebbe essere altissimo 45% 45% 45% la bomba allora dai andiamo dal sindaco ranger hai già fatto un salto alla gola della morte adesso li si ti assicuro che ne vale la pena capisco non l'umorismo ok che discorso ispirato che hai fatto grazie sto BFG è proprio strafaico da vedere eh ma lo useremo più in là pure questa è un'arma buona però per lì è veramente un'arma buona non faccio l'apparenza come i BFG sto scherzando dai i BFG dovrebbe essere una buona arma veramente da quello che ho letto Prano è un'arma a preordine però è così dai beh ascolta direttamente dal computer di Clayton mi hai quasi stancato Clayton sono stato più che paziente ti ho dato un supporto illimitato eppure non hai rispettato la tua parte degli accordi sto iniziando a pensare che Clegg Clayton non sia così influente come dice di essere ai 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 ti do un'ultima possibilità di giustificarti considerati convocato vai alla centrale Golia lì riceverai ulteriori istruzioni quella voce quella cazzo di presunzione da zombie la riconoscerei ovunque abbiamo le coordinate ti prego dimmi che ce le abbiamo l'hai ucciso una puntata fa è una zona chiamata Cascate Gemelle ho un covo di banditi in mano ai bulli penso che quei criminali siano in combutta con l'autorità questo spiegherebbe tutte le loro armi se quella centrale Golia è una specie di base dell'autorità camuffata da covo di banditi allora scommetto che li troveremo tutti i nuclei a fissione di feltrite che vogliamo mi leggi nel pensiero seguo le coordinate e vedo cosa riesco a scoprire una fortuna ok let's go ma dove è l'ha toccata allora giù evidentemente si si ma c'è una cosa che non riesco a capire cambia aspetto ah si ok questo qua ma l'aspetto del mio personaggio che fine ha fatto? va bene no munizioni grazie non è qua il datapad ah no eccolo qua che cacchio come cavolo è messo ehi là ehi là bene fa piacere vedere queste cose qua beh non lo so e allora abbiamo un sacco di luoghi ad esplorare i convogli stazioni di ricarica ecco dai facciamo ste robine qua allora cassa di stoccaggio where dove è la cassa di stoccaggio sicuramente non di qua perché va così piano quando usa la concentrazione non si sa va bene va bene va bene vero di qua no vero ah già allora vediamo un attimo dove andare qua giù perfetto mamma mia ah dai perché risulti ancora in città infame vuoi vedere che adesso non riesco neanche più ad uscire da qua ah ok e non mi fa ancora il doppio salto eh sapete eccola là la cassa vabbè pazienza così giusto per sponda tutto vabbè non ho idea di cosa abbia fatto comunque uh uh ok che posto del cacchio e quello cos'è un convoglio si dai sfondiamo sto convoglio veicoli potenzialmente ne ho eh hai voglia dai chiamala cacciamo quel convoglio esatto proprio così proprio così a niente a niente attuale ah va bene cacciamo per penetrare con gli scudi energetici integrità al 70% integrità capo in minimo trone e lì 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 scudi energetici rilevati provoca un'altra arma sono scoperti spara mi hanno forbito e chiedo un po' di copertura la tua morte è inevitabile siamo immortali io vorrei sparare quello lì mamma mia sti comandi maledetti oh finalmente oh finalmente ok bene perfetto vabbè ormai vi faccio fuori cioè che devo fare lasciarvi andare via così no dai perfetto bene vediamo se possiamo prendere qualche potenziamento adesso sedile ietabile sto qua non è che mi interessi particolarmente però mi sa che è l'unica cosa che possiamo parametrici peccato allora adesso andiamo lì perfetto via veloce come il vento con i tuoi razzi populsori violetta distrutto cosa c'è qui destinazione raggiunta discarica tossica e qua cosa c'è niente ah ok è qua l'entrata perfetto wow bella come cosa soddisfacente vabbè decisamente simpatica lo so che siete curiosi di vedere il bfg lo sono anch'io fidatevi però voglio aspettare l'occasione giusta per provarlo insomma la prima volta deve essere un'occasione giusta ma la feltrite non dovrei vederla con il tracciamento io o almeno in teoria dovrebbe essere così ma in realtà no vediamo un attimo se possiamo potenziare una qua allora ah vabbè peccato grazie lancia d'arte gravitazionale iper cannone ma sapete che non ho mai usato quel menu lì mi ero dimenticato che figura di eh non me lo posso più dire perché mi sono promesso di non dire più parolacce in questo canale da non sto scherzando oggi è un grande giorno bella lì perfetto mamma mia cosa sto vedendo fermo 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 tu sale per i 4 hai l'opportunità di sfidarmi guarda ti consiglio di lasciarmi stare perché se perdo ti faccio saltare la testa per cui lascia stare le garette a me che complicato che arrivare qua oh ah già qui ho il down a porta 5% sono molto curioso di vedere cosa viene qua ed effettivamente sì no con una certa potenza di fuoco in più eh e non sto esagerando anche questa pistola qua poverina sarebbe da potenziare un po' che magari diventa un'arma decente chi lo sa aiuto sì dite a me ok no 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 ripulito anche questo posto bene adesso dove possiamo andare qua andiamo qua dai viaggio rapido stazione di ricarica anche questo però sarebbe da fare eh dai andiamo lì 700 metri cavolo a parte che siamo nel posto giusto sì la paura eh perché attivamente sì perché non l'ho fatto a posto ma il mio veicolo l'hanno distrutto là praticamente mamma mia che macello ma hai avuto così poco avete nel veicolo una stazione di ricarica avvia gara eh vabbè pazienza zero potenziamenti proiettili spezza armatura grilletto sensibile stabilizzatore maestri delle armi vabbè eh oh Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì, sì.